Sì, è spettacolo, non è possibile andare in un pollo, è pericoloso, è spettacolo. Sì, spettacolo. Questa è praticamente Sultana Ahmed. Sultana Ahmed, Jameen. Sultana Ahmed, Blue Mosque. Jameen. Sì, ma qui. Sì, ma qui. Sì, ma qui. Sì, ma qui. Sono molto orgogliosa. Questo è il pezzo che mi ha emozionato. Qua c'è Sultana Ahmed, che poi vedremo. E poi da questa parte qua ci sta Aya Sofia. Mamma mia. E' un po' italiano adesso. Trovate anche un amico italiano. Non voglio disturbarvi. No, no, tranquillo. Che bello. E' un po' italiano. Eh. Wow. Aya Sofia. Ehm. You know that Talibans? Talibans. Talibans. I would talk about it in... Talibans period. The flowers. Sì, sì, I know, I know. It's the oil that comes from Turkey, it's not from Talibans. Never mind. Devrim sta a parlare del periodo dei tulipani. Wow. E' questa wow. Grazie.